Siamo qua in commissione a verificare le condizioni della struttura del cimitero di Catania e a verificare anche le condizioni dei lavoratori che lavorano all'interno del cimitero e abbiamo notato che ci sono delle grosse problematiche anche come vivibilità delle strutture. Cercheremo di capire per dare input all'amministrazione affinché vengano sistemate tutte quelle strutture pericolanti all'interno del cimitero e credo che sia una cosa molto importante da fare. Un normale sopralluogo al cimitero di Catania si trasforma in aperta denuncia per le condizioni in cui si trovano le bare dell'obitorio e la mancanza di sicurezza nel Camposanto. Loculi in attesa anche da 4 anni per una degna sepoltura. Queste sono le condizioni in cui sono conservati i corpi dei migranti morti durante la traversata dell'Epifania dalle coste libiche a quelle siciliane. Fuori dall'obitorio invece si moltiplicano le richieste di intervento per garantire maggiore sicurezza contro atti vandalici e furti dalle tombe. Qui, lamentano le persone, spariscono fiori, vasi e piccole statuette. Un ulteriore dolore per coloro che devono già sopportare quello legato alla perdita del proprio parente o amico. Non solo Zia Lisa comunque. Al centro della discussione restano anche le condizioni dell'impianto gemello nella parte nord di Catania e precisamente a San Giovanni Galermo dove mancano gli spazi adeguati. Proprio per questo abbiamo chiesto più volte all'amministrazione comunale di accoglierla all'istanza di ridurre il vincolo cimiteriale e di proporre alla regione di portarlo a 50 così come hanno fatto altri comuni ma soprattutto di iniziare l'iter perché ad oggi nonostante le varie sollecite più volte c'è stato detto di sì ad oggi non è mai partito l'iter che porti all'allargamento del cimitero. Grazie.